Nuovo appuntamento di cani gatti e compagnia lunedì 10 aprile alle ore 21. In studio il dottor Alessandro Prota, medico veterinario, ci parlerà delle problematiche legate alla castrazione e alla sterilizzazione nel cane, relativamente a tutti gli effetti collaterali ancora troppo sottovalutati nel nostro paese, offrendo alternative valide per limitare la fertilità dell'animale rispettando la regolazione ormonale, fondamentale per il benessere psicofisico dell'animale.